Ben trovati amici followers con un nuovo video. Oggi vi voglio portare nella magia di Granblue Fantasy Relink, un gioco ricco di funzionalità da esplorare. Nonostante il tutorial fornito per comprendere le basi e le meccaniche del gioco, ci sono ancora aspetti fondamentali che Granblue Fantasy Relink non insegna ai giocatori, specialmente su come progredire in maniera efficiente. Sia che voi siate nuovi alla serie o siete dei giocatori esperti, lasciate che vi illustri alcuni tips per migliorare la vostra esperienza di gioco. Il primo consiglio è di completare la storia principale, prima di tutto. Quando mettete piede per la prima volta in Zegagrand Skydome e raggiungete la prima città nel capitolo 1, sarete accolti da PNG che vi offriranno missioni secondarie e il bancone delle missioni sarà accessibile, offrendovi ulteriori incarichi. In questo momento potreste essere tentati di accettare e completare tutte le missioni secondarie per ottenere il massimo di materiale o valuta prima di procedere. Sembrerà strano dirlo, ma l'approccio migliore consiste nel concentrarsi prima sulla trama principale per sbloccare nuove funzionalità. Molte opzioni infatti saranno disponibili solo dopo aver completato la campagna principale e vi sorprenderete quanto tempo risparmirete seguendo questa strada. Le missioni post-game, end-game offrono ricompense più consistenti in valuta, sigilli più potenti e altro ancora. Anche se potreste avvertire la tentazione di iniziare a livellare immediatamente, cosa che normalmente la prassi in qualsiasi CGI RPG, sappiate che questo vi porterà a ottenere ricompense minori e sigilli più deboli in cambio del vostro tempo prezioso. A questo punto potreste chiedervi come sia possibile progredire nella storia principale senza livellare o completare missioni secondarie. La risposta è che la storia principale può essere affrontata senza troppi problemi. Godetevi la trama, che è relativamente breve. Imparate le meccaniche di gioco e in breve tempo raggiungerete l'endgame, dove inizia la vera sfida di grinding. Il secondo consiglio che vi do è quello di formare un gruppo bilanciato. Dopo aver deciso di concentrarvi sulla trama principale, potreste trovarvi di fronte a una vasta scelta di personaggi iniziali, tra cui Rakam, Io, Rosetta, Catalina ed Eugen. Anche se questi personaggi sono più che validi per guidarvi attraverso la storia, potreste sentirvi un po' sopraffatti dalla varietà. Per evitare preoccupazioni inutili, vi consiglio vivamente di optare per due personaggi focalizzati sul danno e altri due personaggi in grado di fornire supporto. Tra i personaggi iniziali solitamente Rakam e Eugen sono molto validi come DPS, poiché sono particolarmente adatti ai principianti per la loro rotazione di abilità più accessibile. Gran e Catalina, d'altra parte, possono essere i vostri pilastri di supporto. Gran può facilmente attivare la sua abilità di schivata fin dall'inizio riducendo i danni in arrivo e può contare sulla sua abilità panacea per cure aggiuntive. Se preferite invece uno stile di gioco basato sugli incantesimi, potreste considerare Io come DPS, sostituendola Rakam o Eugen. Se siete invece alla ricerca di ulteriori alternative al di fuori di queste, il prossimo consiglio potrebbe fornirvi le risposte che cercate. Il terzo consiglio riguarda la scelta dei personaggi da sbloccare per primi. Se non siete soddisfatti di queste raccomandazioni, nessun problema perché ci sono più opzioni. Arrivati al capitolo 4 avrete la possibilità di evocare un altro alleato per la prima volta dal negozio di Siros Nicknack. La scelta migliore per la vostra prima carta compenium sicuramente è Cagliostro. La considero uno dei migliori personaggi di supporto nel gioco, non solo perché può fornire cure istantanee al party, ma può anche potenziare il gruppo con attacchi aggiuntivi, difesa e probabilità di colpi critici. Ma la cosa migliore è che può risuscitare un alleato. Le ressurrezioni sono fondamentali in Granblue Fantasy Relink e non posso sottolineare abbastanza l'importanza di avere qualcuno che le possa fornire, specialmente affrontando il gioco in situazioni più avanzate o durante scontri più difficili. Nel complesso possiede tutto ciò che avete bisogno in termini di abilità di supporto, quindi vi consiglio caldamente di ottenerla il prima possibile. Se decidete di scegliere Cagliostro come vostro compagno di party, potete sostituire Catalina nella vostra squadra. Se state cercando un personaggio di PS al contrario, vi consiglio di optare per Lancelot. È un personaggio adatto ai principianti, con rotazioni di abilità e combinazioni di attacchi normali abbastanza semplici. È veloce, facile da usare, perfetto per i principianti che stanno imparando il gioco. E, ovviamente, se desiderate ottenerli entrambi, continuate a progredire nella trama principale e presto otterrete un'altra carta Companion. Non abbiate timore di potenziare le vostre armi mentre procedete nella trama principale. Inizialmente avrete a disposizione materiali limitati, poiché non state ancora facendo grinding, ma avanzando nella storia otterrete gradualmente materiali essenziali dai boss che potranno potenziare le vostre armi. Potrete recarvi dal fabbro e verificare se ci sono miglioramenti disponibili per il vostro attuale arsenale, soprattutto per il vostro personaggio principale. Potreste avere dubbi su se valga la pena potenziare l'arma attuale temendo che possano apparire armi migliori in futuro, ed è una situazione comune nei JRPG. La buona notizia è che dovrete inevitabilmente massimizzare ogni arma, poiché ogni personaggio ha un albero specifico o una sezione nelle loro maestrie chiamata collezione. Nella scheda delle collezioni potreste visualizzare tutte le armi forgiate per un personaggio specifico. A seconda del livello attuale dell'arma saranno disponibili nodi specifici che potrete sbloccare per ottenere statistiche aggiuntive, proprio come in altre sezioni delle maestrie. Pertanto non esitate a massimizzare la vostra arma attuale e sbloccare il limite nel processo, soprattutto per i vostri personaggi principali. Potenziando la vostra arma attuale progredirete più rapidamente nel gioco, infliggendo più danni e sbloccando simultaneamente nodi dell'arma. In poche parole otterrete due benefici con una sola azione. Ora che avrete selezionati i vostri primi compagni di squadra è fortemente consigliato concentrare le risorse su di loro durante l'avanzamento della trama principale. Questa scelta vi garantirà una base solida a raggiungimento dell'endgame, avendo dedicato l'attenzione a una squadra bilanciata. Potrebbe essere normale rimanere distratti da una vasta gamma di personaggi che potrete reclutare, dato che otterrete più carte companion procedendo nella storia principale. Tuttavia arriverà un momento in cui potrete facilmente raccogliere risorse per eventuali nuovi personaggi che desiderate potenziare. Tuttavia potrete farlo nel modo più rapido solo se avrete quattro personaggi ben livellati per affrontare l'endgame del gioco. Quindi concentratevi prima sulla creazione di una base solida come massima priorità. Se decidete di potenziare le armi assicuratevi che l'arma che state migliorando faccia parte della vostra squadra principale, ovviamente. Un'altra risorsa chiave sono i punti di maestria, una valuta rara soprattutto nelle prime fasi del gioco che otterrete solo completando gli obiettivi della trama principale o salendo di livello. La sfida qui è che, se utilizzi i punti di maestria per un personaggio specifico, non potrai recuperarli e dovrai farmarli nuovamente per aumentare la maestria di un secondo personaggio. Non esiste un'opzione di riassegnazione per recuperare questi punti. I punti di maestria saranno una delle risorse più importanti da raccogliere durante il gioco avanzato. Ma per ora assicuratevi di investire i vostri punti di maestria nel vostro gruppo principale, soprattutto perché avranno bisogno di più abilità per affrontare al meglio il combattimento. Il sesto consiglio ragazzi è di non preoccuparvi dei sigilli all'inizio. Quando giocate nella trama principale è facile farsi distrarre dai sigilli presenti. Sì, forniscono buoni bonus statistici al vostro party, tuttavia nelle fasi iniziali del gioco non è consigliabile concentrarsi solo sulla ricerca di più tipi di sigilli e aggiornarli. Come già menzionato, i vostri materiali saranno limitati all'inizio. Inoltre, un motivo principale per cui non è consigliabile cercare sigilli all'inizio è che quelli disponibili durante le prime fasi del gioco sono di livello inferiore, ovvero otterrete sigilli di livello 1-3. Se cercherete di ottenerli manualmente facendo queste ripetute al bancone delle missioni, otterrete pochi benefici. Potrete completare la storia principale senza problemi utilizzando i sigilli che avrete già a disposizione. Risulta facile ottenere sigilli di livello superiore nell'endgame e li otterrete con abbondanza quando avrete accesso a un livello più alto di trasmutazione nel negozio di Siro. Non solo questo, ma i giocatori saranno in grado di ottenere una valuta speciale chiamata Dahlia Vegis, che può essere scambiata per sigilli di alto livello completando missioni rapide al bancone delle missioni. Quindi aspettate fino a questo punto per preoccuparvi dei sigilli, altrimenti perderete solo del tempo prezioso. Il settimo e ultimo consiglio è di non vendere materiali e sigilli per rupie. Man mano che vi avvicinate alla fine della campagna principale della storia, noterete di avere eccesso di materiali nel vostro inventario. Non solo materiali, ma anche sigilli. Avrete molti sigilli di livello inferiore e il vostro primo pensiero sarà venderli, insieme a materiali extra, per ottenere rupie. Le rupie sono essenzialmente la vostra valuta in Granblue Fantasy Rolink, necessarie per usufruire dei servizi del fabbro come l'aggiornamento delle armi. Come qualsiasi altra valuta del gioco, le rupie saranno scarse durante la campagna principale della storia. So che è allettante, ma vendere materiali e sigilli per rupie non è efficiente, poiché nell'endgame sarete in grado di scambiare i materiali indesiderati e i sigilli di livello inferiore con i Knickknack Vouchers. Questi voucher possono essere utilizzati per trasmutare i sigilli di livello superiore. I risultati, sì, saranno casuali, ma il punto principale è che avrete una migliore possibilità di ottenere sigilli di livello superiore rispetto a venderli per rupie. Più avanti sarete sommersi da queste rupie, dato che otterrete molte Glitter Stones. Lo scopo principale di questi materiali è di fornirvi vagonate di rupie, quindi per il momento non preoccupatevi molto della valuta di gioco. E questo ragazzi conclude questa guida per principianti di Granblue Fantasy Rolink. Questi sono consigli base che potrebbero esservi utili nelle vostre avventure. Seguite queste linee guida e alla fine raggiungerete l'endgame senza perdere troppo del vostro tempo prezioso. Come sempre vi ringrazio per la visione del video, fatemi sapere cosa ne pensate finora di Granblue Fantasy Rolink, se lo state giocando o se l'avete appena concluso. Scrivete pure le vostre impressioni e i vostri suggerimenti nei commenti. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao a tutti!